Amare è un autentico lavoro psicologico. Se leggiamo col senno del poi tutte le relazioni che abbiamo intrattenuto, possiamo vedere come ogni rapporto abbia messo in scena un mito. Il mito più diffuso è quello della totalità perduta, che rimanda al lutto, al vuoto. Ecco perché ogni relazione è una promessa di riparazione e di completezza. Questo è il mito del paradiso perduto. Ed ecco perché amare diventa un autentico lavoro psicologico, il più impegnativo che esista. L'equivoco qual è? L'equivoco nel quale cadiamo è pensare che nel rapporto amoroso dobbiamo escludere il conflitto e l'elacerazione. Ma questo è utopistico. Perché se siamo noi stessi portatori di un dissidio strutturale, se siamo noi stessi portatori di vita e di morte, non c'è unione dove questa dicotomia non emerga. Ma l'uomo ha bisogno di difficoltà. Le difficoltà sono necessarie alla salute. E non siamo mai così privi di difese come nel momento in cui amiamo. Ecco perché quando tradiamo noi stessi è perché ci manca il coraggio, che si fonda sulla fiducia primaria. E la salute dipende dalla possibilità di essere creativi, cioè di autorealizzarci. E questo coincide con l'espansione fiduciosa delle nostre potenzialità. Vi rimando al mio canale YouTube, Roberto Ruga, psicoterapeuta, dove potete approfondire questi temi, trovare dei video molto più lunghi, più chiari, più conseguenziali, meno sintetici, come questo. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online, con la videochiamata, oppure telefoniche, oppure via mail. Per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome, il vostro cognome, i vostri orari preferiti. Inoltre vi suggerisco di leggere i miei libri che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.